Ieri sono sbocciati tre fiori. Uno, due e tre. Oggi sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Quanti fiori sono sbocciati in tutto? Tre ieri, altri sei oggi. Quindi bisogna fare i tre di ieri più i sei di oggi. Quanto fa tre più sei? Tre più sei è uguale a sei più tre e fa nove. Sei più uno fa sette, sei più due fa otto e sei più tre fa nove. È utile saperlo. Sei più tre fa nove ma anche tre più sei fa nove. Altrimenti uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Basta contarli. Facciamone un altro. C'erano due squali. Uno e due. Ne sono arrivati altri tre. Uno, due, tre. Quanti squali ci sono adesso? Ci sono i due di prima più i tre che sono arrivati. Quindi due più tre squali fa? Fa cinque. Però possiamo anche contarli. Uno, due, tre, quattro, cinque. Eccone un altro. Uno squaliato le ha raccolto sette ghiande. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Poi ha raccolto un'altra ghianda. Trova quante ghiande ha raccolto. Ne ha raccolte sette più una. Quindi le ghiande sono sette più uno che fa otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. È giusto. Ok? 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 Grazie a tutti